Tempo reale, tempo reale, il meteo di Siena Venti deboli o moderati meridionali Domani, giovedì 27, cielo molto nuvoloso già al mattino Ma con bassa probabilità di piogge Ulteriore peggioramento dal pomeriggio Con piogge diffuse su tutta la Toscana centro meridionale e anche in serata Temperature minime in ulteriore lieve rialzo Massime lieve caldo, venti moderati dal sud